salve a tutti carissimi bentornati in questi 120 secondi di pallottole di pensiero speriamo allora per stare con le pallottole quale miglior notizia guardate me le offrono così su un piatto bologna punta la pistola contro un passante per fargli indossare la mascherina abbassata siamo arrivati a questo la guerra fra poveri è arrivata addirittura al punto di puntarsi la pistola gli uni contro gli altri per le mascherine mentre in parlamento pasteggiano brindano tutti felici mentre fanno la l'orgia più oscena che la storia politica penso di sempre ricordi lo psico nano con i 5 stelle che hanno fatto una carriera odiando lo psico nano il pd con la lega la lega con il pd non so se ci rendiamo conto e noi abbiamo passato 15 anni noi molti di noi attraverso i social ovunque odiandoci scannandoci chi difendeva il capitan findus chi difendeva i grandi valori del pd e sono tutti assieme in parlamento adesso ci hanno addestrati a dividerci ed odiarci adesso per odiarci cosa ci rimane l'osso delle mascherine la variante inglese la variante napoletana il contagio sta risalendo odiamoci per questo odiamoci ci è rimasto solo quello ci hanno insegnato solo ad odiare odiamoci serenamente tutti assieme mentre loro fanno le loro orge certo che berlusconi si aveva abituato da un pezzo alle orge ma lo capiamo cioè lo capiamo che questa storia della mascherina la paura il terrore che stanno mettendo avevano finito i muraglioni della politica e adesso c'è rimasta la guerra nella guerra delle mascherine il terrore la salute signori dio risvegliali ti prego allora vi lascio con due righe due parole tratte dal film fight club siamo finiti dentro un club di combattimento non è una nazione questa è allora il personaggio di fight club la sapeva lunga in un passaggio dice ciò che possiedi finisce per possederti è solo quando avrai perso tutto che sarai finalmente libero di fare qualsiasi cosa è solo quando avrete perso tutto dico ad alcuni che forse sarete finalmente liberi di vedere che ci hanno preso in giro e che un fazzolettino sporco sulla faccia lo potevate abbassare quando eravate all'aria aperta ci vediamo al prossimo video ragazzi un carissimo abbraccio a tutti ciao